alcuni di voi mi hanno chiesto di commentare il discorso relativo allo spostamento della data e soprattutto del luogo o meglio del luogo e soprattutto della data in cui si giocherà la supercoppa italiana posto che non c'è ancora ufficialità sembra acclarato comunque è acclarato che si gioca in italia si giocherà a san siro ripristinando quella regola che fino a qualche anno fa era in vigore in base alla quale si gioca in casa di chi ha vinto il campionato siccome l'inter è campione d'italia si giocherà a san siro sulla data attenzione perché non è sicuro che si giochi il 5 di gennaio non è sicuro che si giochi il 5 di gennaio potrebbe slittare al 12 questa è un'ipotesi che è saltata fuori successivamente ai primi lanci sulla data quindi aspettiamo l'ufficialità qualora non si dovesse giocare il 5 di gennaio verrebbero accadere quindi tutte le polemiche che già stanno montando relativa al fatto che napoli uve si dimostrerebbe veramente la partita più sfigata della storia del campionato italiano visto che ha già sofferto di tanti rinvii negli ultimi anni causa alluvioni causa covid partenze in aereo squadre stoppate causa in questo caso eventualmente disputa della supercoppa italiana il 5 gennaio mentre juventus napoli era calendarizzata il 6 di gennaio vi ricordo ancora una volta che non c'è più il ritorno a specchio con l'andata ma è stato sorteggiato anche il ritorno caso ha voluto che juventus napoli fosse datata il 6 di gennaio perché stava per scoppiare o è scoppiata una polemica ancora in attesa di sapere quale sarà la data ufficiale semplicemente per il fatto che se venisse rinviata juventus napoli il napoli potrebbe beneficiare dell'apporto dei tre giocatori culibali anguissa e osimen che partecipano alla coppa d'africa in gennaio quindi se si fosse disputato regolarmente juventus napoli o se si disputerà regolarmente juventus napoli 6 gennaio il napoli non avrà questi giocatori se la partita invece verrà rinviata perché la supercoppa si giocherà il 5 il napoli potrà beneficiare nel rinvio sempre che rinvio avvenga però molto più in là potrà beneficiare dell'apporto di questi tre giocatori però in questo momento mi sembra una polemica inutile in questo momento inutile ripeto perché ci sarebbe questa ipotesi ulteriore di spostare la data della supercoppa al 12 di gennaio per una serie di ragioni prima tra tutte quella della pecunia perché il rischio è che il 5 di gennaio la gente sia ancora via per le vacanze natalizie che quindi san siro non possa essere pieno al cento per cento anche perché per quel periodo in teoria la capienza dovrebbe essere riportata al cento per cento mentre il 12 di gennaio la gente è a casa e quindi in pratica si potrebbe ottenere ci sarebbe praticamente la certezza di avere uno stadio pieno e che quindi la lega possa introitare una grossa cifra dall'incasso di san siro spartendolo poi in una parte anche tra juventus e inter perché attenzione se si gioca san siro perché qui ho letto è in casa di chi vince lo scudetto succedeva così una volta e comunque la vendita dei biglietti sarebbe equamente divisa per cui ci sarebbe lo stadio metà dell'inter e metà della juventus e credo che i tifosi juventini presenti in italia non abbiano difficoltà a riempire metà san siro non penso o se non metà normalmente è 40 40 tra le due tifoserie e un 20 per cento di neutrali di inviti e quant'altro quindi quel momento lì san siro assumerebbe veramente l'aspetto di uno stadio neutrale ok perché la vendita dei biglietti sarebbe equamente distribuita così mi risulta poi non so se sono cambiate le regole in corsa non succede mai che cambino le regole in corsa però voglio dire non lo so così dovrebbe essere in teoria in teoria in ogni caso per la juventus non credo che sia un grosso problema giocare a san siro è uno stadio che ha sempre esaltato i bianconeri e nel quale la juve ha sempre amato giocare quindi che poi ci sia la metà delle tifoserie oppure che ci sia la prevalenza di voi dell'inter io credo che la juventus non faccia nessuna differenza per quello che metterà in campo comunque ripeto lasciamo stare questo tipo di polemica perché per il momento mancano eventualmente le basi una volta che ci sarà l'ufficialità di questa data allora vedremo di argomentare in base all'ufficialità della data o 5 o 12 di gennaio alcuni di voi mi hanno chiesto di commentare una frase di massimiliano allegri quest'oggi in conferenza stampa quando ha detto di aver schierato kulusevski sbagliando su brozovic non era una missione di errore era una un intercalare o meglio una una sfumatura ironica della frase siccome in molti hanno detto scritto dopo la partita che lui aveva sbagliato l'impostazione del primo tempo ha voluto riportare quella frase che ha letto o ha sentito in giro siccome ho sbagliato infatti c'è stata anche una mezza pausa quando l'ha detto poi ho pensato di aggiungere qualità convinto ovviamente di aver fatto la cosa giusta ha spiegato poi la situazione perché per esempio non c'era chiesa dall'inizio perché era faticato o meglio perché era stanco perché era stato un po' sottotono nelle due partite precedenti e poi perché ha fatto notare che l'ha detto poi come una battuta se giocano sempre gli stessi il 15 gennaio li butto via o il 12 magari per la supercoppa li butto via sono ragazzi sono persone non sono per quanto siano giovani dei motorini che accende il motore partono hanno bisogno di essere gestiti questo introduce brevemente anche perché lo tratto brevemente non voglio annoiarvi il discorso sulla visione che ha un allenatore di una stagione intera rispetto alla visione che ha un tifoso di una singola partita ok l'allenatore ragiona in termini lontani gestione di un gruppo quante partite ci sono se arrivi fino in fondo incendio sono 57 58 l'ho detto poi basta fare i conti e siccome punti quantomeno a farne una cinquantina ma speri punti in realtà di farne il 57 58 ma comunque ne calcoli sempre una cinquantina nell'arco di una stagione è evidente che bisogna tenere conto della intercambiabilità dei giocatori del turnover mi si dice ma con l'inter non puoi tenere fuori chiesa non puoi tenere fuori questo non puoi a parte che li ha tenuti fuori perché poi l'ha fatti entrare ma non è questione di inter se chiesa è stanco e viene da due prestazioni sotto tono che giochi con l'inter la juve che giochi con il canicatti vale lo stesso discorso perché se tu mi metti in campo un giocatore forte sì ma che in quel momento lì non è in forma ed è stanco non puoi pensare che solo per il fatto che ci sia l'inter ti renda al 100% è questo che vorrei che si capisse so che si fa fatica perché il tifoso ragiona sulla singola sfida l'allenatore ragiona in proiezione ok in proiezione fa dei conti in proiezione penso che sia abbastanza chiaro alla juve non si chiede di vincere la partita alla juve si chiede di vincere il campionato chiaro la juve non vi non vive per vincere una partita che sia contro l'inter che sia il derby che sia contro il minano quant'altro gioca per vincere il campionato ci sono squadre che giocano per vincere soprattutto la singola partita laddove c'è una certa rivalità eccetera ma ragionando così non vinceranno mai un campionato e quindi concentrano tutti i migliori magari su quella partita fanno turnover dalle altre parti rischiando magari di perdere anche quella partita pur mettendo in campo giocatori forti che magari sono stanchi in quel momento lì chi si comporta così non vincerà mai il campionato mi sono effavorato alla fine è stato chiaro non ci sono altre indicazioni sulla formazione c'è il dubbio arthur ecco c'è il dubbio arthur attenzione perché c'è disponibile anche ramsey non dico attenzione perché è ramsey attenzione perché c'è anche questa possibile alternativa e poi vediamo lì davanti insomma se ci ho beccato oppure no con chiesa di bala morata assieme chiesa a destra di bala morata davanti oppure chiesa centra avanti e morata fuori vediamo vediamo dettagli li scopriremo solo vedendo la partita domani è lì che vi do appuntamento nell'intervallo con la mia diretta su facebook e a seguire il mio commento sul canale non ci sarà ovviamente il video pomeriggiano domani perché la juve andrà in campo poche ore dopo tra l'altro perché la partita è alle 18 o le 18 e 30 se sono come allegri manco mi ricordo l'orario esatto della partita ma non si ricorda neanche il giorno sera sabato o domenica qui siamo mercoledì e ho qualche dubbio sull'orario spero alle 18 e 30 ma dovrebbe essere quello a domani ciao 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 ciao